Torna a volte, spera di buttare ancora la mamma qui insieme. Oppure c'era la mamma e la bambina, la bambina è morta. Concludo con questo e lascio le questioni tecniche a nostra. Facciamo recuperare gli occhi come per questa bambina che è morta, ma comunque ci sta accendo qualcosa, anche per la cautiva. Perché se non capissimo il rapporto che la gente dell'epoca aveva con la morte e la bambina, dalla metà dell'Ottocento si parla di pornografia. Cioè parlare di morte con lo stesso pubblico, come sto facendo io o addirittura in una conversazione, è un scello come parlare di sesso. Ecco perché chi parla di morte e chi parla di sesso viene spromesso da una conversazione. Dice che in trasmissioni specializzate, in televisione, non si parla mai di sesso e poi di morte. Ecco, se recuperassi gli occhi di Prattilla, probabilmente potremmo anche recuperare il senso della storia e il senso di questa istituzione che oggi ci ha rispettato. Vi ringrazio. Come vedete gli occhi di Prattilla ci accompagnano e anche, come dire, questo elemento che è ottimorico, se volete, la morte dei bambini. E che in qualche maniera corrona anche nella relazione del Sottor Dario Piofino-Masca. Salve, buonasera e grazie per essere venuti a questo incontro. Grazie soprattutto alla Bruta Dernina e ai miei due legni, a Mastella e a Francesco che mi hanno permesso di partecipare a questa missione scientifica per comprendere i processi di modificazione e soprattutto per valorizzare questi beni culturali. Perché di fatto le mie cose sono, se non beni culturali, al pari di un reperto archeologico, di un quadro... Grazie.